L'anno scorso sono aumentati in tutta la regione gli accessi ai pronto soccorso. Da oggi entra in vigore un nuovo sistema di triage con 5 numeri al posto dei vecchi 4 colori per classificare le urgenze. Ce lo spiega Luciana Barbetti. Nel 2022 gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Foligno sono stati oltre 46 mila. Triplicati i codici gialli raddoppiati, quelli rossi. Una situazione che gli addetti ai lavori definiscono di iperafflusso e che caratterizza un po' tutti gli ospedali umbri. In queste condizioni risulta difficile effettuare il triage con accuratezza. Ma ora si spera che con il nuovo sistema in vigore da oggi tutto migliori. 5 numeri al posto dei 4 colori che venivano utilizzati finora. I codici 1 e 2 sostituiscono il rosso e il giallo, ovvero quei pazienti che hanno bisogno di entrare subito in sala visite. Il vecchio codice verde ora è sdoppiato in codice 3 caratterizzato dall'azzurro e codice 4 che rimane verde. Il codice azzurro potrebbe essere anche il dolore addominale o la gestione di un paziente che viene con delle problematiche psichiatriche, che quindi pazienti caratterizzati da un'estrema fragilità, da un bisogno di accesso alle cure piuttosto immediato. Mentre il codice 4, sempre etichettato come il codice verde nella nuova classificazione, per esempio è una banale distorsione di caviglia. Quindi capisce bene che magari avere, come era prima, con lo stesso codice una distorsione di caviglia e un dolore addominale, con un dolore anche piuttosto importante, poteva creare dei problemi. Dunque un nuovo gradiente di gravità che mette al centro le persone, permette maggiore precisione nel triage e più appropriatezza nelle cure. Insieme ad un gruppo di colleghi composto da tre infermieri e da un dirigente medico, abbiamo fatto una formazione abilitante alla funzione di triage, che si è svolta itinerante in tutti i pronto soccorso dell'Umbria, della regione. Grazie.